Salve a tutti, oggi farò il pancake con le mele. Allora, questi sono 100 g di farina d'avena integrale, una mela, un socco di un limone, cannella e poi metteremo 200 ml di latte di risa da mele integrale e un cucchiaino da tè di zucchero di pura canna integrale. Usiamo la grattugia per la mela, eccola qui grattugiata. Qui mettiamo la farina d'avena, uno di cucchiaino di zucchero integrale e poi aggiungiamo la mela e il latte e la cannella. Voilà, nescoliamo tutto, è ancora un pochettino di cannella. Ricordatevi 200 ml di latte di riso. Adesso mettiamo e spennelliamo un po' di olio di cocco e faremo il nostro pancake alle mele. Ecco qui, olio di cocco, spennelliamo. E facciamo cuocere 2-3 minuti per l'altro. Prima un lato e poi l'altro. Eccoli, l'ultimo, ne escono 8. Eccoli qua, pronti e li guardiamo poi con cannella, vertigli, granella di lucciolo e fragoline. Spero che vi piaccia. Buona dimostrazione a tutti e alla prossima. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!